Una ragazza di 15 anni sarebbe stata vittima di violenza sessuale la notte tra sabato e domenica all'uscita di una discoteca ad Alba Adriatica. A riferirlo i carabinieri che hanno raccolto ieri mattina la denuncia al 112 della madre della minorenne. In particolare la donna ha spiegato che la figlia all'uscita del locale era stata oggetto di violenza da parte di un ragazzo di qualche anno più grande di lei che aveva conosciuto durante la serata. La giovane è stata immediatamente portata all'ospedale di Teramo dove è stata dimessa con 15 giorni di prognosi. Nel pomeriggio di ieri i genitori si sono recati in caserma per formalizzare la denuncia. Con loro la ragazzina che ha raccontato l'accaduto. Le indagini condotte dai militari del nord di Alba Adriatica e dirette dalla procura per i minorenni dell'Aquila hanno permesso di identificare il presunto autore dei fatti denunciati. Anche lui è un minore che su disposizione dell'autorità giudiziaria è stato affidato ai genitori. Sono in corso ulteriori indagini condotte dai carabinieri al fine di fare piena luce su questa vicenda.